la c'è il tre? No, a Bologna, qui a Fomus, è bella lì, c'è due giorni, molto bella, c'è fiori modellisti, c'è anche il mercatino, i banchetti, è un Expo, quindi non è la prossima, quella dopo ancora, è un Expo, è il Vercelli, il Vercelli ha anche corne, le 15 milioni, se me lo dici è un invito, io parlo con Presidente, lì c'è, 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 lì è a pagamento, lo stand, danno, sai che non lo so, penso di, penso di, perché Alzano ci ha chiesto 800 euro, no no, lì deve stare a vedere, sinceramente, guarda io con la porta, un po' ce l'ho fatto, Che meraviglia Che meraviglia, bravo Questo è, così, io sì, ho guardato, non lo so, come mi vuole dire, bene, bene Questo è il rumore di Elia, tutto è su questo, è questo, è questo, è questo, no, poi dentro è tutto nuovo questo, intribuzione nuova, non abbiamo giàioso, deve stare in questo�a qua, quando io posso avver fate, non lo so, ce l'ho fatto, non lo so, non lo so, cosa l'agasso, questo lascio i tempi elettronici dimmi via oh se hai difficoltà passami la radio no te la passo perché sono legato dimmi via vai non si sente neanche la faccia che prontetta tanto vento non tenete solo in lato lì c'è qualche problema guarda che la regolarità vale più della potenza guarda che la regolarità no guarda che guarda che guarda che guarda che quant'è la potenza adesso? che bel rumore madonna a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.